metto la roba sul tavolo ecco qua e signori il pollastro è uno solo ma è bello grosso può bastare pure per 4 persone tutto quello che avete ordinato è di prima qualità giovanotto metti la roba sul tavolo e batte come volete voi metto la roba sul tavolo questo è il dolce che piace tanto alla signorina e questo è il vino e vi siete dimenticati di quella cosa e che come che oggi quando siete venuto a ordinare la cena non vi ricordate io vi ho chiesto se avevate un pantalone vecchio e voi mi avete risposto vieni stasera perché se più tardi succede una cosa che dico io se ho la bella notizia io tengo un vestito un uovo in uovo in uovo lo prendo e te lo regalo ma che non è successo quello che diceva non avete avuto la bella notizia giovanotto si è detto d'andate stiamo parlato dai pastichi me ne va me ne va me ne va non è avuto la bella notizia sarà per la prossima buona serata sarete più fortunati arrivederci arrivederci grazie 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 grazie